Il Memorial Bernardo Romei, giunto quest'anno alla quarta edizione, che si svolgerà agli impianti sportivi dell'Acquedotto sabato 15 e domenica 16 settembre, non è solo un torneo di rugby, ma è qualcosa di più. La due giorni ovale si aprirà sabato 15 settembre con un Open Day dove chiunque potrà scendere in campo e provare il rugby. La manifestazione rappresenta un momento fondamentale per la comunità di appassionati del rugby lucchese, un momento in cui tutti i tifosi di ex giocatori e tesserati si ritrovano per ricordare Bernardo e gli anni trascorsi insieme sul campo da rugby e fuori. Oltre a lui sarà ricordato anche il professor Paolo Barsotti, amatissimo professore dell'ITIS Fermi, che per primo portò rugby a Lucca. A lui è intitolato il premio che andrà al miglior giocatore del torneo. Ma la quarta edizione del Memorial sarà anche quella con il livello tecnico più alto e con interessanti spunti in vista del campionato. Sul campo sarà possibile ammirare alcune delle realtà under 18 più importanti della Toscana. La formazione Fiorentina de' Medici, squadra che ha vinto il torneo negli ultimi due anni. L'Etruria Piombino e Cavalieri Prato VI. A questi si deve aggiungere la squadra di casa, la formazione affidata anche per quest'anno alle cure di Marco Montefalcone. Vede rinnovata la collaborazione con i titani Viareggio di Dennis Dallan e dopo aver aggiunto la fase interregionale nella scorsa stagione, quest'anno è chiamata a confermarsi. Magari partendo proprio con la vittoria del torneo, impresa, ma è riuscita finora. Sarà quindi un torneo da livello tecnico agonistico molto alto, ma gli spunti di grande interesse non finiscono qui. Dopo il torneo riservato agli under 18, che si svolgerà la domenica mattina, seguirà infatti la prima uscita stagionale della prima squadra di mister Matteo Giovannico contro la formazione spezzina del Golfo Poeti.